Buongiorno e buon sabato 5 marzo ai tre spettatori della C. Iniziamo subito questa nostra consueta rassegna stampa dalle principali notizie e dai fatti oggi in edicola. Intanto da Vibo Valencia c'è la notizia che riguarda la strada del mare, sequestri a imprenditori e funzionali della provincia. Per quanto riguarda la politica nazionale c'è la liberazione in Libia dei due italiani Gino Policardo e Filippo Calcagno. E poi tornando ancora a parlare della nostra regione ci soffermeremo sulle notizie che riguardano la sanità. Ci sono importanti novità che riguardano in particolare il Marrelli Hospital, rilasciata infatti l'autorizzazione. Ancora la cronaca con il ritrovamento nel Vibonese di un feto morto ai piedi di una madonnina. Questi altri gli argomenti riportati questa mattina in primo piano sui giornali ma adesso la nostra rubrica accadde oggi. 5 marzo 1876 All'eventuno del 5 marzo 1876 esce il primo numero del quotidiano milanese Il Corriere della Sera, fondato da Eugenio Torelli Volier. Il lancio avviene la prima domenica di quaresima, giorno in cui tradizionalmente gli altri quotidiani milanesi non uscivano. Il ricavato del primo numero viene devoluto interamente in beneficenza. La redazione del giornale è composta da tre redattori e ha sede nella storica Galleria Vittorio Emanuele. E adesso subito in diretta da alcune delle località più belle della nostra regione. Partiamo dalla Sila, dal villaggio Palumbo. Guardate, guardiamo insieme che spettacolo questa mattina. La Sila, tanta la neve caduta al suolo ieri, scenario ideale per un weekend sulla neve. Ecco in questo momento in diretta da Villaggio Palumbo in Sila. E ancora andiamo adesso a Crotone, siamo a porto di Le Castella, isola Capo Rizzuto. Ecco la giornata che si presenta questa mattina. Una giornata soleggiata, sempre il sole protagonista questa mattina di... Eccolo, vediamo il cielo di Catanzaro così si è svegliato questa mattina. Siamo in particolare sul lungomare di Catanzaro Lido con scorcio del porto. Il traffico non è per nulla sostenuto, vista l'ora presto e ancora molto presto. Ecco dunque come si è svegliata questa mattina la nostra regione. Adesso, come sempre, torniamo a vedere come titolano le testate online in edicola. Partiamo dalla Cineus24.it. In primo piano questa mattina c'è la vicenda, lo anticipavamo, che riguarda la strada del mare sequestri a imprenditori e funzionari della provincia di Vibo Valencia. La strada avrebbe dovuto congiungere Pizzo a Rosarno e quindi lo svincolo con l'A3 tra gli indagati di imprenditore Vincenzo Restuccia, funzionari ed ex dirigenti dell'ente. Andiamo ad approfondire meglio questa notizia d'apertura. La Guardia di Finanza, dunque, su mandato del GIP, Gabriele Luppoli, sta procedendo al sequestro di quasi 6 milioni di euro di beni a carico di 5 indagati nell'inchiesta per la realizzazione della strada del mare. Ipotizzate presunte irregolarità nei lavori e nella gestione dell'appalto dell'opera, costata oltre 30 milioni di euro che avrebbe dovuto congiungere Pizzo a Rosarno. Al momento resta una delle grandi incompiute della Calabria. Il provvedimento di sequestro di beni riguarda un imprenditore, alcuni funzionali ed ex dirigenti dell'ente, l'imprenditore Vincenzo Restuccia e il dirigente tecnico dell'impresa Antonio Scidà, Giacomo Consoli e Francesco Teti, ex dirigente ed ex funzionario della provincia di Vibo Valencia. Ancora Antonio Francolino, funzionario dell'ente, responsabile del settore viabilità. Questi dunque alcuni dei nomi che riguardano questa inchiesta scattata proprio nelle scorse ore. Adesso cambiamo quotidiano, ci trasferiamo sulla prima pagina della Repubblica, prima pagina online che apre con la liberazione dei due italiani, liberazione avvenuta in Libia. Liberi gli altri due italiani, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, giallo sul blitz, stiamo discretamente ma devastati. Queste dunque le prime parole dei due italiani. Notte insonne per le famiglie, parla il figlio, un'emozione sentire la sua voce. Questi dunque l'argomento in primo piano questa mattina sulla Repubblica e poi ancora Siria tra i silenzi di Aleppo sotto il tiro dei cecchini. Questi gli argomenti in primo piano. Passiamo alla prima pagina del giornale. Andiamo a vedere la notizia d'apertura, notizia dedicata alla politica. Lo vediamo insieme il titolo. Roma, ai gazebo ci sarà solo il nome di Bertolaso, il leader di Forza Italia. Ho sempre detto che non credo alle primarie ma Salvini insiste, non è il mio candidato a meno che questo dunque l'argomento in primo piano. Poi ovviamente si parla della liberazione dei prigionieri dopo il blitz, intervento chiesto dall'Italia. Questo dunque il primo piano sul giornale. Dal giornale economico il sole 24 ore. Ecco voglio segnalarvi la notizia che riguarda la Madia, martedì al via il PIN unico per la pubblica amministrazione. Sarà presentato dunque martedì prossimo il PIN unico per la pubblica amministrazione. Lo ha annunciato da Bari il ministro per la pubblica amministrazione Marianna Madia, intervistato dal direttore del sole 24 ore Roberto Napoletano, nel corso dell'iniziativa Viaggio nell'Italia che innova, organizzato dal quotidiano in collaborazione con IEI. Il PIN unico, ha proseguito Madia, per ogni cittadino dovrà diventare un po' come il codice fiscale e consentire attraverso un unico sistema di autenticazione di avere i servizi più vicini online. Questo dunque è l'argomento in primo piano sul sole 24 ore. Torniamo a parlare dei fatti che riguardano la nostra regione, lo facciamo dalla prima pagina del quotidiano online. In primo piano la strada del mare con il sequestro pari a 6 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Vibo Valencia. Gli inquirenti ipotizzano in particolare irregolarità nella gestione dell'appalto di un'opera che nelle intenzioni avrebbe dovuto congiungere Pizzo a Rosarno e quindi lo svincolo con la A3. Adesso sempre dal Vibonese un altro caso, quello dell'effetto sepolto in provincia di Vibo. Arriva la conferma con i risultati dei primi esami medico-legali. Le analisi sul piccolo organismo rinvenuto sotto terra confermano che la provenienza è senza alcun dubbio da ricondursi all'utero. Continuano intanto le indagini della polizia per fare luce su questa vicenda. Da Gioia Tauro in migliaia ai funerali dei quattro giovani morti sull'autostrada. Le quattro bare sono state allineate sul sagrato della chiesa. Ieri a Gioia Tauro, la chiesa Maria Santissima di Portosalvo, la messa è stata ufficiata da tutti i parroci della città. Dunque in migliaia si sono stretti in occasione dei funerali celebrati a Gioia attorno alle famiglie dei quattro 22 anni morti martedì scorso in un incidente sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza in particolare dello svincolo di Nileto. Adesso dalla Gazzetta del Sud in primo piano si parla dei funerali dei quattro giovani morti sulla tre, in particolare 10.000 ieri per l'ultimo saluto ai quattro giovani molto conosciuti nella città di Gioia Tauro. E poi andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda Calabria Verde. Primo avviso di garanzia. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno notificato il primo avviso di garanzia nei confronti dell'ex direttore generale dell'ente Paolo Furgiuele. Dunque prima l'avvio dell'inchiesta con diverse persone informate sui fatti, ora gli avvisi di garanzia. Prende forma l'indagine della Procura della Repubblica di Catanzaro sui presunti appalti irregolari e non solo gestiti da Calabria Verde. Ieri gli uomini della Guardia di Finanza hanno notificato il primo avviso di garanzia nei confronti dell'ex direttore generale dell'ente Paolo Furgiuele. Nelle prossime ore dovrebbero essere notificati anche gli altri avvisi di garanzia. Andiamo avanti dal Vibonese.it. In primo piano la notizia che riguarda la strada del mare. Eccola, sequestro di oltre 5 milioni di imprenditori e funzionari provinciali. Il provvedimento in esecuzione dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura Vibonese alla base dell'indagine illecita nell'aggiudicazione dell'appalto. Andiamo ad approfondire meglio questa notizia. A frode in pubbliche forniture e truffa aggravata, così la strada del mare è morta sul nascere. Dunque entriamo nel dettaglio di questo articolo. La ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza dell'intricato ITER di una delle più grandi incompiute del Vibonese mette in evidenza le condotte illecite in danno della provincia. In corso sequestri in Calabria e nel Lazio, lunedì in procura la conferenza stampa per illustrare i dettagli di questa operazione. Dunque la vicenda dell'appalto della cosiddetta strada del mare, una delle opere pubbliche più imponenti e travagliate della provincia di Vibo Valencia, finito al centro dell'indagine della procura e che ha aperto al sequestro preventivo di beni per oltre 5 milioni di euro, a carico di 5 indagati. Eccolo dunque il titolo. In primo piano questa mattina sul Vibonese. Ci trasferiamo su stril.it. In primo piano questa mattina la sanità con la vicenda che riguarda il Marrelli Hospital. C'è in particolare la dichiarazione del consigliere regionale Nazareno Salerno che esprime viva soddisfazione per l'autorizzazione all'esercizio del Marrelli Hospital, struttura di eccellenza che costituisce un importante punto di riferimento per i malati oncologici e che consentirà di porre un freno agli interminabili viaggi della speranza a cui sono costretti i pazienti e le loro famiglie calabresi. Questo dunque il titolo in primo piano stamattina su stril.it. In particolare si parla di questa autorizzazione attesa da molto tempo. Scura infatti proprio nelle scorse ore ha firmato il decreto. Il commissario per il rientro ha infatti apposto la sua firma al decreto di autorizzazione all'esercizio per il Marrelli Hospital, festa tra i dipendenti che da giorni presidiavano l'ufficio del commissario a Palazzo Alemani di Catanzaro nel momento in cui si è diffusa la notizia. La situazione del Marrelli Hospital durava ormai da mesi con la struttura che chiedeva l'autorizzazione per l'apertura. Un'autorizzazione bloccata però dalla burocrazia. E adesso dal lamettino.it una notizia che riguarda la viabilità compromessa dal maltempo. Eccola la foto che ci spiega questo articolo. Mareggiata spazza via il tratto della statale 18 a Campora. Ritorna il senso unico alternato ancora da anni e disagi. in particolare nei pressi del porto turistico di Campora San Giovanni in località principessa. Dunque andiamo ad approfondire questo argomento che riguarda l'emergenza maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore. Le mareggiate in particolare rischiano di inghiottire il tratto della statale 18 da anni martoriata dal maltempo. Adesso si ritorna dunque al senso unico alternato. Se da Stril, dall'amettino passiamo al crotonese. In primo piano dunque le notizie che riguardano la provincia pitagorica. Andiamo a vedere questa notizia che riguarda in particolare la protezione civile regionale. cinque consiglieri comunali si appellano al prefetto. Estrema preoccupazione e stupore manifestano i consiglieri comunali di Crotone, Cimino, Lucente, Pedace, Sorrentino e Fabio Trocino sul depotenziamento dell'ufficio di protezione civile di Crotone. Il decreto adottato su proposta del dottore Tanzi, dirigente del settore protezione civile, priva di importanti compiti e funzioni l'ufficio di Crotone, quali la gestione delle attività emergenziali e le attività di pronto intervento. Perciò un accorato appello viene rivolto al prefetto Vincenzo De Vivo e da tutte le autorità preposte affinché vogliano farsi carico ciascuno per la propria competenza della problematica. Questo dunque sul crotonese e adesso da Soveratiamo, eccolo in primo piano, la notizia che riguarda lo sciopero generale nazionale per martedì 8 marzo indetto dallo Sly Cobas. Questo dunque l'articolo d'apertura potrebbero verificarsi disagi per gli utenti delle strutture sanitarie delle aziende sanitarie provinciali di Catanzaro a causa dello sciopero generale nazionale in tutti i settori pubblici, privati e cooperativi di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, determinato con contratti precari ed atipici per l'intera giornata dell'8 marzo indetto dal sindacato dei lavoratori auto-organizzati intercategoriale dunque dallo Sly Cobas. E adesso da WISUD in primo piano questa mattina la notizia che arriva ovviamente dal Crotone con Luigi Promenzio che plaude all'autorizzazione del Marrelli Hospital con l'autorizzazione ad esercitare della divisione di ortopedia pediatrica del Marrelli Hospital di Crotone. La regione Calabria colma finalmente un vulnus storico e dota la popolazione di una struttura ad altissimi livelli tecnico-strutturali, così dunque riporta stamattina WISUD. E adesso come sempre la nostra rubrica Il Santo del Giorno. Sabato 5 marzo 2016, la Chiesa ricorda Sant'Adriano. A Cesarea in Palestina, Sant'Adriano martire, che durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano, nel giorno in cui gli abitanti erano soliti celebrare la Festa della Fortuna, per ordine del governatore Firmiliano fu per la sua fede in Cristo gettato in pasto a un leone e poi sgozzato con la spada. Siamo al TG Flash, in primo piano la sanità, sono 6.850 i posti letto previsti nella rete ospedaliera avvarato dal commissario al piano di rientro dal deficit sanitario in Calabria. accoglie le prescrizioni del Ministero e pertanto il placet definitivo del prossimo tavolo romano appare dunque scontato. Vediamo il servizio. Manca solo il via libera del tavolo ministeriale, che allo Stato appare come una mera formalità. La nuova rete ospedaliere è stata definita dall'ufficio del commissario al piano di rientro dal deficit Massimo Scur e dal suo vice Andrea Urbani. Il decreto assegna la Calabria 6.850 posti letto. Di questi, 5.554 sono destinate agli acuti, 1.296 per i posti acuzie. Il piano è stato varato dall'ufficio del commissario sulla scorta delle indicazioni pervenute dal Ministero della Salute. In calce non c'è invece la firma del capo Dipartimento regionale tutela della salute, Riccardo Fatarella. La cronaca ci porta nel Vibonese per la notizia del ritrovamento del feto morto, lasciato protetto da celofan sotto gli occhi della statuina della Madonna. Si tratta di un feto di poche settimane, sul caso indaga la procura di Vibo Valencia. Una piccola croce, pietre e fiori, il sepolcro che proteggeva sotto la statua della Madonna delle Grazie un feto di circa 10 settimane, protetto da un contenitore di plastica ricoperto dal celofan. È stato scoperto mercoledì sera a Vena Media, frazione di Vibo Valencia, in località Cerantonio. La scoperta è stata fatta domenica sera, dopo che nella mattinata un componente della locale confraternita, recatosi sul posto per ripulire la zona dalle sterpaglie, aveva notato il piccolo sepolcro creato nei pressi della statua della Madonnina. Da qui il ritorno sulla zona e la scelta in serata di fare intervenire la polizia, che ha sequestrato tutto avvisando pertanto la Procura della Repubblica. L'inchiesta Calabria Verde, due visi di garanzia, sono stati notificati dalla Procura di Catanzaro, che compie il primo importante step dell'inchiesta su Calabria Verde, l'ente in aus della regione da tempo nell'occhio del ciclone. Hanno raggiunto l'ex DG Furgiuele e il dirigente allevato. Abuso d'ufficio in concorso. E' questa l'accusa che la Procura di Catanzaro muove nei confronti di Paolo Furgiuele e Alfredo Allevato, rispettivamente ex direttore generale e dirigente di Calabria Verde, azienda in aus della regione Calabria, da tempo sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Tre i casi sui quali i PM del capoluogo di regione indagano. Il primo riguarda lo stop ad un appalto da 33 milioni di euro per l'acquisto di mezzi destinati alla protezione civile. Il secondo è inerente la gestione dei fondi comunitari da parte dell'ente per ciò che attiene gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Andiamo adesso a Salerno dove giunge agli sgoccioli dopo anni di attesa e di battimento il primo grado del processo per la presunta illecita vocazione delle inchieste Why Not e Poseidone all'ex PM di Catanzaro De Magistris. L'accusa ha chiesto quattro condanne. Per i PM di Salerno sono colpevoli, avrebbero complottato, dicono i titolari dell'accusa, per far strappare le inchieste Why Not e Poseidone all'ex PM di Catanzaro, oggi sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Quattro le condanne, questa la richiesta avanzata dai sostituti procuratori Alfano e Minerva nella requisitore del processo per la presunta illecita vocazione delle indagini giudiziarie. Tre anni di reclusione per l'ex procuratore aggiunto di Catanzaro Salvatore Murone, per l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli. Due anni e sei mesi invece per Giuseppe Galati, già sottosegretario all'attività produttiva e per Antonio Saladino, ex presidente della Compagnia delle Opere della Calabria. Proseguiamo con la cronaca. Si sarebbero fatti pagare per rendere false dichiarazioni e scarcerare i propri osurai. Per questo sono stati arrestati nella piana di Gioia Tauro due ex commercianti, padre e figlio. Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto Clemente e Giovanni Cedro, rispettivamente padre e figlio, commercianti con un passato da imprenditori nel settore dei videopoker, poiché ritenuti responsabili del reato di false informazioni al pubblico ministero aggravate dalle finalità mafiose, in particolare nel corso dell'attività investigativa legata all'operazione Atlantide, che ha beneficiato anche del contributo dichiarativo di alcuni collaboratori di giustizia. Proseguiamo con la cronaca. Beni per 300 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri di La Mezzia. Domenico Giampa, si tratta di uno dei killer dell'omonima Cosca già condannato per omicidio, estorsioni ed associazione mafiosa nell'ambito dei processi contro i maggiori clan Lametini. Beni per circa 300 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo di La Mezzia Terme ed un esponente di spicco dell'Andrangheta. Si tratta di Domenico Giampa, 35 anni, detto Bucca Cillu, ritenuto un sicario al soldo dell'omonimo clan. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA. Il sequestro ha riguardato, oltre somme di denaro e conti correnti, anche una villa nella disponibilità dello stesso Giampa, benché fosse formalmente intestata ad un parente. In particolare, le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di mettere in luce la pericolosità sociale delle figure al centro delle indagini patrimoniali. Si torna di nuovo a parlare di Ponte sullo Stretto, a riportare l'attenzione sull'argomento il Premier, Matteo Renzi, che giovedì prossimo sarà in Calabria per la demolizione delle diaframma dell'ultima galleria della Salerno-Reggio. E assicura il 22 dicembre ci sarà l'inaugurazione. Prima o poi risiede in quel segmento imponderabile di tempo la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Anche stavolta il Presidente del Consiglio ha ritornato sul tema, ma con diverse clausole. Il pretesto per parlarne è la questione delle grandi opere, in particolare il completamento della Salerno-Reggio Calabria, che, ha dichiarato, verrà inaugurata il 22 dicembre prossimo. Intervistato a Isoradio Renzi, che sarà in Calabria il prossimo 10 marzo per la demolizione del diaframma dell'ultima galleria dell'A3, incalzato dall'intervistatore, ha sintetizzato in poche dichiarazioni la sua teoria sulla realizzazione dell'opera. La pagina della cultura, Antonio Nicaso, giornalista, scrittore, docente universitario, ha presentato a Cosenza il suo mafia. Ma la fae, potere e denaro, un rapporto inversamente proporzionale. Di questo e di molto altro si parla nell'ultimo libro di Antonio Nicaso, dal titolo generico Mafia, presentato alla libreria Mondadori di Cosenza. L'esperto internazionale di fenomeni mafiosi fa un'analisi comparativa sulla mafia siciliana, l'andrangheta e la camorra. Mettendo in evidenza come il sistema tentacolare della mala sia divenuto un fenomeno culturale internazionale che si lega con la zona grigia del potere. Per capire le mafie bisogna spazzare le interpretazioni culturaliste, bisogna spazzare i miti. Storico redattore dell'Ansa Calabrese, giornalista e scrittore tra i più influenti nella nostra regione, Filippo Veltri, ha presentato a Catanzaro la sua ultima fatica letteraria, la Calabria dolente. Non riflessioni sparse su argomenti puri importanti di varie umanità, ma una lettura della Calabria organica e coerente, dispiegata attraverso storie, commenti e riflessioni su fatti specifici. Filippo Veltri ha presentato a Catanzaro il secondo capitolo della saga sulla Calabria dolente. Io lancio un messaggio che è quello di un racconto innanzitutto onesto dei fatti. L'aggiornamento che io faccio tre anni dopo, il primo Calabria dolente, mette in risalto come i problemi c'erano, ci sono, non so per quanto tempo resteranno. Classe 54, laureato in giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera giornalistica lavorando al giornale di Calabria. In chiusura allo sport, il calcio in Lega Pro weekend importante per le due calabresi, Catanzaro e Cosenza, match quasi impossibile per le aquile giallorosse che ospiteranno al Ceravolo il Benevento. E' un trittico da brividi quello che attende il Catanzaro. Si parte domenica prossima in casa con il Benevento. La prima in classifica, reduce da un pareggio contro il Matera, proverà a strappare tre punti fondamentali ai calabresi per allungare sul Lecce. Tutti presenti per Oteri, ad eccezione di Mazzeo. Gli stregoni che vantano il miglior rurrino di marcia casalingo faticano un po' in trasferta, come dimostrano anche le statistiche. L'ultima partita, vinta lontana dal Ciro Vigorito, è datata 21 febbraio, contro il Monopoli. Quella del Ceravolo sarà una partita particolare per il trainer campano. Bene, adesso vi ricordo qualche appuntamento. Oggi è le 13.45, l'edizione giorno del nostro telegiornale. E poi domani, domenica, non perdetevi l'appuntamento con la nostra domenica. Il format condotto da Alessio Bompasso ed Erika Cunzolo. E poi noi invece torniamo domani mattina, a partire dalle 8, con la nostra consueta rassegna stampa. Ancora grazie a tutti voi, l'augurio di una buona giornata. Adesso il meteo. Visita il sito www.lacnews24.it Oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet Per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 Sulla Calabria che fa notizia Per essere aggiornato 24 ore su 8 giorni su SpreAngela Per essere aggiornato職 Sono